L'esercizio provvisorio dell'Arezzo andrà avanti sino alla fine della stagione. Il Tribunale ha infatti dato l'ok dopo il parere favorevole espresso dai curatori fallimentari Lucio Francario e Vincenzo Ioffredi. È stata sostanzialmente accettata l'offerta che è pervenuta dal gruppo di imprenditori, tra cui uno a Retino, per il recupero della società. Quindi poi seguirà con la scensione del titolo sportivo a fine anno, ma adesso il passo importante era poter capire se l'offerta fatta da questa società a gara andata deserta era compatibile con l'equilibrio dell'esercizio provvisorio. Il Tribunale ha risposto positivamente, quindi tiriamo un grossissimo sospiro di sollievo. Ringrazio ovviamente tutti gli aretini che hanno contribuito a far sì che si superasse la soglia che era critica del 16 di marzo, ma naturalmente gli imprenditori, primo fra tutti Giorgio Lacava ma anche Massimo Anselvi e ovviamente Orgoglio Amaranto, per quello che hanno fatto in questa fase che dopo quella era la più importante. Adesso rimane in mano ancora tutto ai curatori fallimentari. Per un periodo sì, poi si procederanno con la scissione del titolo sportivo. L'importante è sapere che c'è risorsa che sta arrivando da parte dell'imprenditore e che viene utilizzata per procedere nella gestione. Quindi l'Arezzo Calcio e quindi anche un ringraziamento alla squadra che sta giocando, sta facendo il suo dovere, con alti e bassi, ma con la grande gioia che ha dato col Siena in casa.